Bentornati alle slide della vostra professoressa di lettere. Stiamo insieme compiendo un ripasso di letteratura italiana e siamo giunti al XVIII secolo, al Settecento, e abbiamo già studiato insieme alcuni importanti generi letterari. Oggi invece cominciamo ad incontrare uno dei massimi esponenti della letteratura italiana del Settecento, ovvero Giuseppe Parini. Egli, da riformista moderato, partecipò al dibattito sull'illuminismo, trattando tematiche attuali dal forte contenuto morale e civile, come la critica dei privilegi, l'uguaglianza sociale e così via. Non rinunciò alla tradizione classica, esibendo un linguaggio di rara eleganza formale, ma allo stesso tempo vivo, moderno, polemico e realistico. Per tutte queste ragioni oggi andremo ad approfondire la sua figura. Partiamo ovviamente dalla sua vita. Nato a Bosisio, in Brianza, nel 1729, da una famiglia modesta, senza particolare convinzione diventò sacerdote nel 1754. Fu precettore presso la famiglia dei duchi Serbelloni, impegno che però abbandonò nel 1762 a causa di profonde divergenze d'opinione. Nel 63 ricevette particolare fama ed entusiastici consensi dal mondo letterario con la pubblicazione de Il Mattino, prima parte di quel poema satirico in De Casilla Bisciolti che è la sua opera maggiore, ovvero Il Giorno. Il conte di Firmian, ministro plenipotenziario dell'Austria, gli affidò quindi la direzione della Gazzetta di Milano nel 1768 al fine di promuovere la politica riformatrice del governo austriaco in Lombardia. L'anno successivo fu chiamato a insegnare eloquenza nelle scuole palatine. Intanto nel 1765 era stato pubblicato Il Mezzogiorno, la seconda parte di quel poema satirico che abbiamo già detto, mentre le ultime due parti del poema, Il Vespro e La Notte, saranno date alle stampe postume. Intanto, con la morte di Maria Teresa, il nuovo imperatore, duca di Milano Giuseppe II, attuò riforme centralistiche, prendendo le distanze quindi anche dagli intellettuali milanesi. Però Parini fu riconfermato nei suoi incarichi e dopo la morte di Giuseppe II e l'ascesa al trono del fratello Leopoldo diventò addirittura soprintendente delle scuole di Brera. Nel 1796 i francesi entrarono a Milano per diffondere gli ideali della rivoluzione. Parini accettò di far parte della nuova repubblica, ma il radicalismo dei giacobini e le sue motivazioni religiose lo allontanarono dall'avventura napoleonica. Al rientro degli austriaci in città nel 1799 temette di essere allora incluso nelle liste di proscrizione, cosa che però non avvenne probabilmente a causa del suo passato moderato. Così il 15 agosto dello stesso anno morì dopo aver composto il sonetto Predaro i Filistei, celebrativo della vittoria austriaca. La sua opera maggiore è dunque, l'abbiamo detto, il giorno, articolato in quattro parti e un poema satirico in Ende Casilla Bisciolti. In esso Parini si finge precettore di un giovin signore che deve essere educato secondo il costume alla moda aristocratica. La finzione letteraria permette così all'autore di descrivere l'ozio, la corruzione, il voto spirituale, la presunzione della casta nobiliare. L'opera si apre infatti con una dedica in prosa alla moda e poi scandisce i tempi lenti e dilatati di un giorno qualsiasi, esplorando nei minimi dettagli, anche quelli insignificanti, la vita fastosa e vuota dei nobili, dal risveglio al rito della preparazione, dai pranzi alle visite mondane, dalle passeggiate in carrozza alle lezioni di ballo fino al gioco d'azzardo. All'ingresso in scena di una dama si nota che il rapporto tra la donna e il protagonista è ridotto ad una serie di schermaglie e diventa rappresentativo della vita di relazione della società nobiliare. Il vuoto psicologico del protagonista è infatti totale e senza speranza, privo di possibilità di pentimento. Quindi la critica che Parini rivolge all'aristocrazia è etica più che politica. L'inutilità sociale del nobile infatti è una colpa, aggravata dall'ingiustizia dei privilegi di cui gode. Al contrario le classi più umili sono presentate come modello di operosità, di castigatezza, di vietto familiari. Abbiamo detto dunque che il giorno è diviso in quattro parti, il mattino pubblicato nel 1763, il mezzogiorno nel 65 e poi il vespro e la notte pubblicati postumi. In particolare la sera, cioè la terza parte si chiamava la sera e poi fu sdoppiata nel vespro e nella notte e data alle stampe incompiuta e postuma nel 1801. Ora, i motivi della mancata ultimazione, oltre al minuzioso lavoro di Lima, operato dal poeta, è da attribuirsi anche allo scoppio della rivoluzione francese che pose fine ai privilegi dei nobili, facendo venire meno l'attualità della materia e rendendo inopportuno un atteggiamento polemico da parte dell'autore. Sicuramente quindi le ultime due parti del giorno, che sono appunto il vespro e la notte, riflettono la delusione dell'autore e la fine di quello che era il periodo d'oro dell'illuminismo lombardo e della prospettiva di riforme sociali. Così i caratteri più inquietanti dell'opera vanno cercati proprio in questi versi, che appaiono costruiti tutti sull'opposizione tenebre-luce. La vena polemica qui infatti si attenua, ma aumenta la consapevolezza della decadenza di un intero seto che ha perso la sua funzione storica. In generale comunque, se vogliamo dare uno sguardo di insieme all'opera, possiamo dire che protagonista apparente del poema è il giovin signore, ma il vero protagonista è il Parini, che sotto le vesti di precettore finge di insegnargli come impiegare la giornata ingannando la noia, dal suo tardo risveglio fino al grande ricevimento notturno offerto da una ricca signora, è condito da insulse conversazioni, rinfrescolo cugliano, immancabile gioco di carte. Tutta la vita del giovane in realtà è frivola, ma Parini la riveste di toni eroici, per cui è meno appariscente la frivolezza, ma più alta e pungente l'ironia. L'indole pacifica e l'educazione dell'autore non gli consentivano l'invettiva, l'escandescenza. Ma nell'ironia c'è tutto il suo disprezzo per un'aristocrazia passiva e gaudente, privilegiata per diritto di nascita, che offriva l'indegno spettacolo in una classe corrotta e ampollosa, la cui unica preoccupazione era quella di trascorrere il tempo nel più faticoso ozio. Per Parini, che era stato educato invece all'onestà rude e schietta della gente di campagna, la nobiltà stava nello spirito delle persone che lavoravano e producevano, mantenendo un animo retto e facendo del bene al prossimo. Ed era una cosa che non si poteva tramandare ai posteri. E quindi egli decide di tramandare ai posteri l'aristocrazia del Settecento con il marchio della condanna. E se nel mattino la sua attenzione si concentra sul giovine signore, presentandoci la sua giornata con novizie di particolari, non priva di monotonia, nel mezzogiorno, e soprattutto poi nel vespro e nella notte, come scrive Pazzaglia, Parini rappresenta di preferenza scene di insieme, vari affreschi di vita nobiliare, con una capacità di descrizione più agile, ma con immutata riprovazione morale, anche se con un impeto polemico o meno intenso. Lo spirito polemico, ironico, così come l'uomo, il letterato e il moralista, fa tuttavia parte del poeta, per cui oggi la critica riconosce nella sua opera la coesistenza di motivi e toni rifiutati dalla critica romantica e idealistica, e invece si tende oggi ad accettare il Parini nella sua integralità, in quanto poeta, moralista e descrittivo, ironico e lirico, didascalico e concreto, di gusto composito, di squisita fattura letteraria, poeta operante nella sua storia, sebbene nei limiti della sua epoca, ma tuttavia dotato del linguaggio universale, di una poesia ancora viva e profondamente umana. Ma il giorno non è l'unica opera scritta da Parini e comunque non è l'unica sua opera di una certa importanza. Non possiamo infatti non citare anche le Odi, scritte tra il 1758 e il 1795, le Odi vennero poi raccolte da Agostino Gambarelli, allievo di Parini, e pubblicate nel 1791 e poi in un'edizione ampliata nel 95. Possiamo dividerle in più gruppi, perché abbiamo un primo gruppo, definito le Odi Illuministiche, che è caratterizzato dall'impegno civile e politico. Possiamo ricordare la vita rustica, la solubrità dell'aria, l'educazione, l'innesso del vaiolo sulla necessità di vaccinazione e il bisogno, in cui indica nella miseria la causa della criminalità. Un secondo gruppo sono le Odi Neoclassiche, dove affronta tematiche più personali, la laurea, le nozze, la caduta, in morte, il pericolo, la magistratura, il dono. Infine, l'ultima Ode alla Musa celebra la poesia che educa l'uomo al culto delle cose nobili e buone, e rende conseguentemente il poeta un esempio di moralità e di moderazione. Questa esaltazione del valore supremo della poesia come espressione di armonia e rigore coincide con un'esplicita adesione ai moduli stilistici del neoclassicismo. La scrittura poetica delinea in modo netto oggetti e personaggi, ponendoli sotto il controllo dell'io, voce educatrice che promuove nuovi valori. Possiamo quindi collocare Parini a metà strada tra quello che è l'illuminismo del primo settecento e quello che è il neoclassicismo che caratterizzerà la fine del secolo. Volendo quindi riassumere nella figura di Parini, possiamo certamente dire che il tema centrale della sua vita è la critica agli immotivati privilegi della nobiltà, tema che viene portato avanti dal letterato sia nel suo privato sia nelle sue opere in un rapporto di rara coerenza. Nel 1760, l'abbiamo detto, dopo otto anni di servizio in veste di precettore presso la duchessa Serbelloni, ebbe un violento alterco della donna che aveva schiaffeggiato la figlia del maestro di musica e quindi dovette lasciare il suo lavoro. E qui già vediamo il suo ripudio nei confronti della nobiltà. Ma già da giovane nel 1757, nel suo Dialogo sopra la nobiltà, aveva fatto sentire la sua voce contro gli aristocratici, che, se da una parte suscitavano la sua ammirazione per l'eleganza e la raffinatezza, dall'altra provocavano il suo sdegno per la tracotanza, la corruzione e i favori di cui godevano. Già da questi episodi traspaiono quindi il senso di giustizia e l'integrità morale del Parini. Sin dagli scritti giovanili, nei quali vengono accolti i principi illuministici dell'uguaglianza e della dignità umana, che poi lo accompagneranno per tutta la vita. Sotto invece il profilo linguistico, il sensismo, in parte accettato dal poeta, lo induceva a creare una lingua più viva e moderna, senza però rinunciare alla sua educazione tradizionale e alla disciplina classica. Si andava delineando così una poetica non certo innovativa, ma volta a una poesia impegnata, utile, che traeva ispirazione dalle esigenze e dalle problematiche della vita quotidiana, secondo il gusto razionalistico del secolo dei lumi, ma che non perdeva di vista l'eleganza espressiva. Lo stile era così importante da indurre Parini ad affermare che l'argomento di Dascalico dovesse essere solo un pretesto per fare bella poesia. D'altra parte, la sua attenzione alla lingua è dimostrata dalla lunga revisione a cui sottopose le sue opere, in particolare Il giorno. In proposito, Sapegno scrive «In questo incontro di una moralità e di un intento civile nuovo, con una salda disciplina classica e con un senso raffinatissimo della tradizione poetica, intesa prima di tutto nei suoi valori tecnici, sta appunto l'originalità e l'importanza storica del Parini». Grazie.